Bentornati qui dal vostro Daniel Street su PES 6 e dove eravamo rimasti nel nostro bel classico? Ora avevamo fatto Juventus e Manchester United 0-0 e 0-0. Minchia, video noioso. Adesso vediamo di rifarci contro l'Hamburgo, ok? Allora, siamo a 4 punti dal porto, però bello, 0 gol subiti, 6 vittorie e 3 pareggi. Beh dai, direi che ci può stare, ok. Andiamo avanti. Stiamo così. Vediamo se ce l'abbiamo in forma. Ma, tutto sommato. Vediamo, ah, Kubala sospeso. Perfetto. Qua ci mettiamo Becchiristein, Coxys, linea carica in forma, Segarra è l'unico che potrebbe dare solo Isenrique. Però non è come, ma dai. Alex Anko. Così si riposa un po'. Capitano. E andiamo dall'altra parte, c'è forse, beh, che proprio conosco, Maga. Non so se voi conoscete degli altri dell'Hamburgo, ma è anche formazione con i giocatori che hanno vinto la Champions League, no? Il finale con la Juventus. Buonasera a tutti, da Marco Meccia e da Mauro Sandriani. Eccoci qua. La partita sta per cominciare. E' a burro comunque, 16 punti. Ciao Marco, è un piacere essere qui con te in questa occasione. Devi stare attenti. La loro grande condizione ha permesso loro di restare nelle prime... Sto mandando, scusate. Fammi. Guardi, guardi, ora è questo? No, non lo conosco. Andiamo. Allora, subito, l'Ini Karsun si morse. Ah, comunque non vi ho detto, l'Hamburgo è una delle ultime squadre create. Fatti di campionati internazionali ne ha fatti pochi. Urcatrota! Però ha subito... Beh, dimostrato di essere una squadra veloce, con un 4-3-3 rapido. I giocatori ce li ha. Non sono magari... Certo, non è il Barcellona, però... Per dire, eh, Barcellona. Non perché lo utilizzo io. Ma togliti! Eh, prova a girarsi, no. Questo ci offre dei varchi, l'Hamburgo. Ma il problema è che... Dall'offrirci i varchi... Vedi? Che siamo proprio squadre larghissime. Perché tutti e due giocano con il 4-3-3. Che a noi, tanto tanto, ci va anche bene. L'ho capito, ma... Ma vi potete smarcare? Se non vi smarcate... Io che cazzo ne so... E' un bel passo. Udi! Gol! L'Audrup... Riprende a segnare dopo un po'. E anche il Barcellona, dopo due partite, ritorna alla marcatura. Oh! È difficile perché... Cavolo, se non si smarcano. Bene, bene, bene. Bravo, Meccia! Oh, mi sto mangiando. Memering. Prova ad allargare su Milewski. Mette in aria per Mandavica. Se l'Audrup è in forma... Vinciamo. Lineker. Incredibile. Simonsen con Alvorsen. Vediamo un po'. Ma guarda, nella corsa, un computer... Anche con un player ti raggiungerebbe. Guarda come lo spingi. Guarda che brutto fallo. Ma stai calmo. Lineker, però, porca troia. Guardiola! No! Col pano. Nooo, non è quel fuorigioco. Occidenti. Guardiola, stecca. Uh, si è messo di mezzo l'arbitro. Si è messo di mezzo l'arbitro. Non è mai successo, perci. due minuti di recupero segnalati dall'arbitro. Buonque lo voglio rivedere. Mettete in pausa il video e andate a rivedere cosa è successo. E poi mi dite. Bravo, guardiola! E colpisce di testa liberare. Bravo, guardiola! Questo chi è? Bekiris, che non gioca mai. Vediamo se la ramanzina degli allenatori avrà avuto effetto. Andiamo così. Si riparte. Speriamo solo che il secondo tempo sia intenso come il primo. Ma scivola. Hanno cambiato campo. Dogli. L'arbitro per Buljan. Buljan che probabilmente farà partire. Bungo la corsia esterna a sinistra. Pallo intenzionale. Uh-huh. Partire quell'altro, ma non ce la fa. Eccolo! Luis Enrique. Per Lineker che c'è un ottico problema. Lineker che non è forte. Cioè, è un rapinatore d'aria, ma non c'è altro. Uh, che bello! Che bello incrociare Simonsen. Entra Volker. Eccolo! Bisogna metterla sul 2-0, perché sennò... Ci potrebbero prendere quasi quasi in contropiede, eh. Con queste al... Come le allargano. Pressing, pressing! Ancora la palla! Pressing! La messa alta. Esattamente in mezzo al reparto. Splendida difesa qui. Ah! Cambio. Sì, beh, Kirinstein, non mi piaci. Ci metto stupido. Steak a Laudrup. Procurando un infortunio. Alla caviglia. Scambiare due parole con l'attaccante. Credo che alcuni spettatori ritengono che il cartellino avrebbe dovuto essere di un altro colore. Con calze. È il primo cambio oggi. Calze che quando ha freddo si mette le calze. Mostri abbastanza chiaramente le intenzioni dell'allenatore. Visto il vantaggio. Bellissimo. No, non dovevate. Zerlaudrup. Simonsen. Simonsen se lo vuole bere. Tira subito. Attenzione. Ancora. Accidenti. Dai, faccia. Svegia, svegia. Svegia. Bene, ancora il pallone. Veloce, 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 veloce. Dai, Laudrup. Andiamo e mettiamoci Shuster. Se almeno magari ce lo teniamo più fresco. Tanto entra... Ah, entra la Seller. Della finale del 66. Germania-Inghilterra. Cosa metterà adesso? Ma guarda. Shuster! Niente, 88. Siamo ancora a 1-0. Normale che quel gol l'abbiamo fatto. Qui steca giusto per spezzare un po'. Regala un caccio di punizione. Ormai mancano... Mancano... Dopo questa mancano tre partite. Alla fine del... No, bruttissimo. E finisce qua. 1-0. Ora vediamo le inseguitrici, che sono Porto e Juve. Che cosa fanno? Questa vittoria comunque è stata importante. River Plate vince col Benfica, che era ultimo a River Plate. La Juve vince. Ok, perfetto. Real Madrid vince incredibile in caso del Torino. La Roma perde contro il Manchester United. La Lazio rifiola tre pere al Porto. E quindi il Porto non rimane a seguire. Perché succede questo. Juve. Underleg. Eccolo lì. Underleg realmente... Vedi? Cambia tutto. Cambia veramente tutto. Basta una partita che non vinci. Ed è così. Quindi siamo a 5 punti. Bene. Andiamo avanti. Che loro hanno la partita di coppa? Avere la partita di coppa loro? Eh, infatti, come è avvenuto? Cos'è avvenuto? Eh, vabbè. Juve, Lazio, 4-0. Real-Penaroll più equilibrata, effettivamente. Juve e Real, nel caso, sono tutte lì. Il Penaroll invece è già più fuori. Quindi il Penaroll e la Lazio sperano. Anche in una vittoria della Coppa. La Lazio ormai si è persa un po'. Scusate, è salvo. Oh! Attenzione, Porto-Barcellona. Questa qui voglio i migliori perché è importante. È importante. Posso anche rischiarmi Guardiola out. Però, altre cose direi di no. A me piace giocare col 4-3-3 e quindi va bene così. Il Porto è una grande squadra, dai. Anche se, diciamo negli anni, non ha affatto, non ha affatto granché. Un saluto a tutti i telespettatori. Tra il Porto e il Benfica, le due squadre portoghese, il Benfica comunque è più forte. È certo, ma sono veramente tutte lì. Le uniche sono queste. Benfica, Ribefflietta, Peinhardt e anche Penarolle. Ormai, diciamo, sono fuori. Oliveira. E di qua, invece, Kubala. Quattro gol, le nove partite. Bene, 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 bene. Andiamo, andiamo, andiamo. Siamo carichi. Sul bagnato. Gomez. Sì, Gomez. Sono un attaccante bravino. Anche Kubilias. Chiaro. Oh, dai, ma non si può prendere così. Dai, dai, dai. Veloce. È veloce. Oh, c'è un tubo. Giraldao. Giraldao. In ascio. Ma lui corre. Quella differenza è che io non riesco a riprenderlo. Allo, grazie. Occhio perché ha iniziato ha iniziato bene il porto. ha una formazione tra l'altro giusto che formazione ha? No, bene. 4-3-3 però non ci fa allargare come eh, come l'ambulgo. Lo vede, lo vede in mezzo. Lo vede in mezzo. Cacchis! Colpo di testa! 1-0 l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto proprio in mezzo che era libero e quindi perfetto perfetto inserimento perfetto cross va bene tutto 1 a 0 sicuramente vorranno mantenere questo vantaggio bene 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 ma noi andiamo in pressing 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 e dai o porca o porca il primo il primo gol subito nel campionato ce lo fa kubilas incredibile come è andato un pollo lì è stato un pollo disattenzione clamorosa al 24esimo nooo mi dispiace sta cosa perchè al primo gol subito del campionato oh vabbè non è che capita ho preso le due squadre che si lanciano vogliono tornare in vantaggio è un buon cross potrebbe aiutarli a segnare e ci prova dalla distanza questo spazza vai vai shuster 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 appoggia per sergi vediamo nooo eee per quella gambetta non c'è da frasco ma frasco d'estate quando c'è quando è all'ombra si fa frasco nel senso bella 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 battuta questa questa shabbo eeeh eeeh coxys intanto si gira e gonfia la rete la gonfia proprio la gonfia doppietta per lui non servono le battute qua per segnare e siamo nel recupero ho già tre gol in un tempo dai su svegliati in questo video guarda ne faccio ne faccio tre lo faccio più lungo oddio cosa ha fatto Ronald Koeman non ci siamo Koeman eh mi fai cagare siamo alla fine del primo tempo i giocatori entrano negli spogliatoi per un po' di riposo mi chiedo che cosa diranno loro i due allenatori è una bella una bella partita questa devo dire noi continuiamo così però Koeman ha già fatto due errori che da capitano giocatore esperto non va bene non va bene oh ma ma porca vaca ma mi devi mi devi salire sega mi devi salire devi salire ok 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 coxys ancora no 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 però non utili te gubala si potrebbe però preferisco appoggiarla ho baggiato tu no sbaglio lo sto vedendo un pochettino a scatti non lo so Migueli che era salito per l'angolo si ritrova stoico stai con attenzione per chi Neskens ho già per laudrup laudrup fallo 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 rigore questo qui l'ho visto è rigore cubala 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 ma non a lui ma come si fa no niente Korman Korman non ci siamo cosa farà qui allontanata di punto no 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 Korman basta Simonsen cambiamo 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 voglio 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 i giocatori che corrono sta tentando di difendere il vantaggio non male ma manca la precisione stiamo entrando nel quarto d'ora finale mette il pallone sulla faccia no cosa che è successo la bandierina si è alzata guarda Maggi era al posto di Gomez che anche Maggi era un devo dire un buonissimo attaccante passaggio filtrante Kubala 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 dai cazzo subito subito adesso ha una possibilità per piazzare un cross dalla sinistra niente sbagliato continuo a correre lungo la fascia destra sono sotto di un gol a cinque minuti dalla fine riusciranno a riequilibrare la partita non c'è arrivato di un soffio tre minuti corri 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 pericolo adesso sulla fascia sinistra bene 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 che c'è l'albo e dunque il calcio d'angolo e in mezzo Toxis di testa ci prova e finisce qui due a uno e ci va benissimo il porto con due sconfitte di fila deve stare attento deve veramente stare attento grande colpo di testa Cubillas questo qua ecco ma anche veramente si pesca l'uomo incredibile questo anche questo è molto bello devo dire Real Madrid vince Lazio perde Landerlecht vince quindi anche la Juve vince sì sì il porto il porto sta andando giù il Manchester United perde eccolo lì il Torino anche lì due sconfitte di fila l'Hamburgo vince vediamo vediamo perché veramente manca allora noi siamo sempre a 5 punti la Juve l'Andrea l'Real l'Hamburgo Manchester United e Porto eccolo lì Porto che se la gioca con la Roma per quel posto lì perché bisogna sempre capire chi è che vince la coppa perché altrimenti appunto anche l'ottavo posto andrebbe bene e allora lì la Lazio è a 3 punti bene 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 classifica gol del vecchio Marco del vecchio ma come si fa Domingos Graziani dalla parte di lì ok facciamo ancora una partita sì 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 con River Plate come ce la giochiamo poi dopo c'è il Real quindi ma io direi con questa squadra argentina di mettere vabbè di cambiarli magari dopo però metto quelli che con il Real devono essere più in forma Shaster sospeso ok Luigi Zarreta ci metto Ramandez Sergi ok sì quindi abbiamo Philol passarella Ruggeri io con l'articolo che c'è a Lopez stadio national vuoto se no vabbè a tratti qua diciamo che i tifosi non hanno più speranze di vedere il River Plate trionfare per questo anche il Torino potrebbe ancora passare come anche il Penarola ma il River Plate sicuramente no Campes Mario Alberto Campes e di lì c'è sempre Kubala perché non segna e deve segnare quindi Ramon Diaz Moreno e c'è anche Francesco lì il River Plate è una squadra direi allora non è mai stata usata né da me né da mio fratello però direi che ho sempre dato defilo da torcere nella Coppa Libertadores nel campionato appoggiati dietro oh Dio nel campionato sudamericano è una squadra con giocatori direi buoni Kubala Kubala provo a girarsi lusenrico vabbè vabbè dai primo tiro primo tiro fillol cortiere anni 70 scarruggeri passare colpo di testa bravo ok Kubala Kubala si prova a girare prova a girarsi ma poi spara centrale intanto vi dico che nel prossimo video faremo l'ultima giornata capiremo le squadre passate e poi facciamo non l'estrazione perché il secondo girone eliminatorio sarà tutte le altre classiche che non c'erano in questo io lì utilizzerò in realtà non lo so non lo so ancora di preciso quale squadra potrei utilizzare potrei utilizzare ad esempio un national una squadra uruguayana ma non ancora ma guarda quanti orrori ci vuole concentrazione se ne va in perfetta solitudine li sali zero minuti dai dai che angolo ce lo fai battere il livello campione di un computer quando ha una squadra con dei talenti devo dire che è comunque difficile perché devi essere sempre attento soprattutto nel difenderti nell'attacco pressa nel 3 cioè la IA è buona in questo gioco non passi facilmente no e poi fai un errore ti punisce sì fantastico pallone filtrante ecco un tiro maravo pacchero guarda guarda che tiro questo è stato un chiaro poteva finire sul tappino dei cattivi ma l'arbitro ha scelto di chiudere un occhio oh ci si ci si prova eccolo però quando ti lascia fare un pochino cerchi di allargarti e poi e poi la tiri all'angolino quando hai uno come Kubala che 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 quasi adesso però lo tolgo perché poi si stanca e io invece lo vorrei carico per il reale bello ha fatto gol lo tolgo spondalo quasi infortunio perché ha preso una botta luiso enrico luiso enrico neskens perché neskens può fare anche l'ala non c'è problema non c'è problema ho raggiunto la prova vedi prova a tirare ma arriva arrivano subito arrivano uuuh deviata deviata ma no coxley basta stoico ecco l'uneskens uuuh traversa uuuh traversa hanno evitato il pericolo ma hanno concesso un falo laterale ancora coxys ma vai in mezzo vai raccoglie la respinta cosa farà stavolta pesca e con una cazzata può andare al tiro arriva il tiro eeeh appena fuori è finita sulle abbastanza cazzata vabbè guardiola eeeh amor e poi ci mettiamo anche nadal così si riposano secondo me questo cambio dimostra che stanno cercando di difendere il vantaggio tenta di bucare oh si vabbè però anche te se fai il pallonetto quello lì era gol bisogna stare attenti su tutti i palloni possono essere insidiosi corri e spazza tira e levala ma va a cagare ma va a cagare ma guarda lì ma guarda lì c'era finita finita era finita la partita finita ma va a cagare guarda ma guarda e la si è avuto in bocca accidenti ma guarda a te ma guarda a te non hanno fatto niente non hanno fatto 1 a 1 incredibile 1 a 1 ma guarda qua ma guarda dove l'ha messa Moreno ma chi è il cantante anche questa l'ultimo no incredibile 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 1 a 1 che poteva essere una vittoria clamorosa e invece siamo qui con la partita finale magari non abbiamo neanche assicurato il primo posto no direi che 18 gol 18 gol fatti 2 subiti ci siamo ci siamo comunque però però è incredibile questo potevamo essere a 30 punti e vabbè guardando le altre siamo Barcellona Juve Anderlecht Real Madrid bene Hamburgo Roma Manchester Porto tutte a 18 punti tutte a 18 punti perfetto considerando che poi c'è la coppa quindi la coppa avviene dopo e quindi bisogna bisogna vedere e allora niente lasciate un like per questo incredibile video commenti a tutto spiano fate quello fate quello che volete iscrivetevi al canale e noi ci becchiamo al prossimo video dai e ciao ciao